Primo ottobre 2017, quarto turno di eccellenza Toscana, Girone B, benvenuti allo stadio Romanelli di Borgo San Lorenzo, amici di Teleiride, questa è Fortis Juventus Baldaccio Bruni. Giovanni Agostoni di Milano, l'arbitro dell'incontro che sarà coadiuvato a quel fischio d'inizio da Boccolini Francesco e Francesco Cocco, D'Urso. Pallone è girato bene per Quadroni che prende di infilata la difesa della Fortis, alla fine il ripiegamento difensivo di Di Giusto a salvare la squadra quest'oggi in maglia arancio-blu. Giovanni Agostoni è pronto, muro sistemato, muro a cui si è barriera, a cui si è aggiunta anche una maglia della Fortis, quella di Innocenti, parte il mancino di La Rosa. Il Girone B di eccellenza, questa giornata, questa è una delle partite sicuramente più interessanti, qua stacco da parte di Lenzini, murato da Giovagnoli. Pallone sbagliato però da parte del terzino sinistro di Mr. Benedetti e allora può calciare in porta la Fortis da grande distanza. Ripartiamo con il tempo della gara, il cambio di campo di Serotti, tocca Fabianelli ma il pallone è comunque buono per Guidotti, Guidotti converge sul destro, Guidotti ha lo spazio per il tiro, Guidotti va a cercare la conclusione di poco alta. Prova ad ascendersi il numero 10 della Fortis, pallone per Donattini, il cross dalla destra in direzione di La Rosa che va a calciare, intervento provvidenziale di Rosati che in spaccata ha allontanato. Battuto al centro dell'area il corner può andare Durso in contropiede, incredibile il contropiede subito dalla Fortis con Quadroni che affida Ricci, Ricci riesce in qualche modo a salvarsi la Fortis anche grazie a Mazzolli che ha fatto il quattrocentista e è andato a riprendersi Ricci dall'altra parte del campo. Termina anche la seconda frazione di questo Fortis Juventus baldaccio Bruni, il risultato finale è di 0 a 0.